E' tutto vero, un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero Zero fake news, la voce sincera che c'è su Youtube Siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano Iscriviti, iscrivici, quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti Amici della Voce del Diavolo e del canale Youtube Milanello, ben ritrovati Abbiamo assistito alla partita Inter-Juve Ha vinto la Juve secondo me in un modo non meritato Continua a ribadire che non è un grande problema di essere uscito Perché comunque queste partite pesano sulle gambe E noi a Milan abbiamo da pensare al campionato e poi all'Europa League Ma la priorità sicuramente è verso il campionato Continua questa polemica sterile sui rigori dati Sui social, dovunque, si scherza ma questi sono scherzi che essendo reiterati Sono scherzi mirati a creare un movimento d'opinione Un movimento d'opinione che poi va a colpire gli arbitri che sono esseri umani come tutti Infatti il discorso di Rizzoli che ha preso per esempio come esempio proprio Milan-Torino Con un rigore solare sul Milan che secondo Rizzoli non doveva intervenire la VAR Ha creato e creerà qualche problema e quindi dobbiamo essere forti per poter superare Per poter superare questi problemi che incontreremo Ci sono poi questi movimenti di opinione Io dico fatti tendenzialmente da quei radical chic politici che in caso strano sono anche tutti interisti Io parlo dei Riotta, parlo dei Severnini, parlo dei Mentana, parlo di Bonolis Che hanno questa finta ironia, non è ironia, è rabbia Rabbia nei confronti del Milan Che è un avversario per loro inaspettato Ci hanno un po' schifato in questi ultimi anni Ci hanno sottovautato sicuramente quest'anno Anche se fino a prova contraria negli ultimi dieci anni Loro non hanno vinto niente e il Milan qualcosa ha vinto invece Però loro chissà perché pensano di essere chissà chi Certamente loro quando li ha acquistati Suning Moratti ha detto finalmente ho trovato la famiglia Zhang Per poter mettere in mano l'Inter nelle migliori condizioni per arrivare dovunque E così sembrava dopo che hanno speso una barcata di soldi Anche hanno fatto le solite plusvalenze creative Hanno preso un allenatore da 24 milioni lordi l'anno Addirittura hanno proiettato in Duomo l'immagine di Messi con la maglia dell'Inter Facendo presagire ai tifosi interisti Che Messi sarebbe arrivato all'Inter Invece Messi è arrivato all'Inter Esattamente come è arrivato all'Inter Adesso lo davano per certo il Papu Gomez Come davano per certo Dzeko Come l'anno scorso davano per certo Modric E invece niente si tengono i loro giocatori Che comunque sono dei buoni giocatori Che comunque l'intera signora squadra E vediamo come andrà a finire Adesso forse usciranno anche dalla Coppa Italia Comunque a noi interessa poco A noi interessa questo movimento Ho detto che è fatto apposta per crearci il nervosismo E noi non dobbiamo cadere in questo nervosismo Dobbiamo continuare Molto belle le parole che ho letto oggi di Close Close è un grande centro avanti Che è andato a Milanello a studiare i metodi di Pioli Perché ritiene Pioli un allenatore con idee molto moderne Pioli è il classico uomo che ha fatto la gavetta Cioè prima il calciatore, poi l'allenatore Ha fatto tutti i livelli Ha fatto tanti anni E non è mai stato considerato un top Ma sta facendo molto bene Evidentemente ha completato un processo di miglioramento Che già era iniziato alla Fiorentina Vi ricordate quando purtroppo ci fu la tragedia di Astori Come fece bene, come compattò la squadra Ecco, credo che Pioli sia maturato Come maturano molti a Milan Come è maturato Calabria Come è maturato in un modo pazzesco Donnarumma E come tanti altri giocatori Noi finalmente stiamo recuperando Cyanoglu si sta allenando al 100% Revic si sta allenando al 100% Ibra si sta allenando al 100% Come Mandzukic Abbiamo fuori Kier Che dovrebbe rientrare diciamo Tra due partite E l'infortunio più lungo è sempre Gabbia E poi abbiamo adesso Diaz Diaz fuori Ma comunque tutti A parte Gabbia Credo sono tutti infortuni Che nel giro di due o tre settimane dovrebbero rientrare Comunque abbiamo la Rosa Quasi quasi al completo Se Tomori rispetta ciò che ha fatto le prime due partite Possiamo tranquillamente sopperire anche all'assenza di Kier Per ancora uno o due partite Quindi siamo lì Giochiamo la nostra prossima partita con il Crotone Tranquilli Aspettiamo Vediamo anche gli altri cosa faranno E andiamo avanti così Vedendo tutte le classifiche Pensiamoci bene Noi abbiamo fatto meglio di tutti Meglio di tutti Nella seconda parte Dello scorso campionato Dopo il lockdown Abbiamo fatto meglio di tutti Nella prima parte di questo campionato Tant'è vero che siamo campioni d'inverno Siamo primi Primissimi nella classifica Dei pali colpiti Mi sembra 17 pali Su 18 partite Su 19 sono tantissimi E' vero anche tanti rigori Ma sappiamo bene perché Solo uno Non era da concedere Ma è stato concesso come compensazione Con un rigore Dato da Roma Che era Mondio che non ci fosse Era completamente inventato Siamo primi su tante classifiche Siamo piuttosto avanti anche nella classifica Dei cartellini gialli E delle espulsioni Comunque siamo una squadra che gioca Siamo una squadra presente Quindi il nostro obiettivo Che continuo a dire E' di entrare in Champions Lo stiamo Stiamo facendo di tutto Per raggiungere Abbiamo Abbiamo Inserito dei giocatori Appunto Tomori Dicevo prima Mandzukic Che ci aspettiamo veramente tanto Tanto da Mandzukic E poi vedremo anche questo Meite Siamo contenti di questa campagna Acquisti Di inverno Io sono contento Come devo dire Che visti certi Così devo dire Chiari di luna Per esempio Di luna cinese E non solo Molte squadre d'Italia Non stanno pagando gli stipendi Che è un problema molto grave Dell'economia Nel caso italiano Invece Con Con Elliot Almeno da questo punto di vista Io si sta mostrando Qualcosa di molto solido In questo In questo momento Probabilmente Una delle migliori proprietà Che si possa avere Anche se io Ovviamente Preferirei sempre Avere una Una proprietà Di persone Di Aziende Che Ci mettono il cuore Che siano anche tifosi Che siano con noi A soffrire Con noi a gioire Con noi a voler Arrivare a risultati Sportivi di eccellenza Cosa che un fondo Non ti può garantire Ma comunque Questa è la realtà In realtà Di questi tempi Accontentiamoci E andiamo avanti Aspettiamo con calma L'esito anche Non solo Della nostra partita Ma delle altre partite Anche per quanto riguarda Inter-Juventus Per il ritorno Perché Una delle due squadre Ne uscirà Fortemente triste Diciamo Fortemente triste E in mezzo Sicuramente Alle polemiche Un caro saluto a tutti